Buongiorno, sono la dottoressa Eva Maria Martin, medico radiologo responsabile del servizio di diagnostica per immagine delle case di cura Villa Gemma, Villa Barbarano. Nel nostro servizio di radiologia possiamo effettuare gli esami di radiologia convenzionale, TAC, risonanza, senologia e MOC. In particolare mi piace presentarvi la risonanza magnetica ad alto campo con un chemtrail particolarmente ampio per pazienti claustrofobici e obesi.